Un modo per migliorare i livelli di salute e di sicurezza sul lavoro, favorendo le imprese virtuose. Finanziamenti e agevolazioni alle imprese, grazie al bando INAIL 2015, presentato nella Sala Conveni della Camera di Commercio di Napoli. Ne parla l'assessore alle risorse umane, lavoro, demanio e patrimonio della Regione Campania, Sonia Palmeri. La mia qui è la testimonianza effettivamente della sensibilità della Regione Campania, del mio assessorato verso questi temi, di cui non se ne parla mai abbastanza. Sono percorsi virtuosi per fare in modo che anche in Campania effettivamente impresa si possa fare. Però si deve fare in maniera virtuosa, in modo tale che ci sia una vera responsabilità sociale di impresa, quindi salvaguardando innanzitutto la salute e la sicurezza dei lavoratori. Oltre 25 milioni di euro stanziati dall'INAIL alle imprese, aumentando i fondi per la Campania e per la bonifica dell'amianto. Ascoltiamo il direttore generale INEIL Campania, Daniele Leone. Stiamo presentando il bando ISI 2015 che è il seguito di una serie di bandi che ha messo a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza risorse finanziarie non indifferenti. Tenete presente che dal 2010 ad oggi sono state messe a disposizione delle imprese oltre 1 miliardo e 200 milioni a livello nazionale e 112 milioni sulle imprese campane. I risultati si stanno vedendo perché registriamo comunque una riduzione delle denunce di infortunio. La prevenzione al centro dell'attenzione, con una serie di incentivi per le imprese che, almeno da un millennio, intervengono per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene nei posti di lavoro. Intervenuto l'amministratore delegato del Consorzio Promos Ricerche, Ferdinando Flagello. Ma il ruolo è sempre il solito, quello di favorire attraverso lo sportello sulla responsabilità sociale delle imprese, il sistema delle imprese non soltanto nella provincia di Napoli ma a Campania, su tutti i temi che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi si parla del bando ISI e delle possibilità attraverso l'Otti24 affinché le imprese possano godere di agevolazioni finanziarie per migliorare i propri sistemi di gestione di sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi ci contiamo molto su queste attività perché attraverso la prevenzione possiamo sicuramente migliorare la qualità della vita all'interno delle aziende, delle nostre imprese e quindi anche l'incidenza degli infortuni, soprattutto mortali, nei confronti dei nostri lavoratori. Grazie. Grazie. Grazie.